Questo workshop per la creazione del modello di rete Borghi Saluti e Benessere. C'è questa iniziativa importante che è stata fatta dalla regione dove un sacco di comuni del Cilento hanno aderito, hanno fatto queste reti. Ci sono tanti comuni del Cilento Capofila e noi abbiamo fatto questo incontro per cercare di dare una mano. Noi siamo un ente superiore, ringraziamo i comuni per il lavoro che fanno, lo fanno bene, non vogliamo entrare assolutamente in conflitto o poter gestire loro risorse, non c'è problema, è solo per dare una mano, per coordinarli e per dare un supporto laddove ci sia bisogno visto che su questo, visto che siamo un ente superiore, possiamo magari dare un supporto per unire e per coordinare meglio i vari progetti che saranno messi in campo. Allora, quanto è importante creare anche delle forme itineranti, naturalmente questi fili conduttori per un territorio, per la crescita, ecco, per quello che naturalmente il Cilento può vigere qui ma anche altrove? No, è importantissimo perché oggi creando le reti, creando percorsi, creando sinergie tra i territori, si può lavorare meglio e si può far conoscere i territori. Noi abbiamo un problema enorme, oggi si conosce il brand di Cilento, però magari non si conoscono delle aree interne del centro che sono fantastiche, sono straordinarie e che hanno storie da raccontare veramente importanti, hanno valori ambientali importanti ma anche culturali. Quindi io penso che è questa la strada giusta e perciò noi vogliamo dare una mano perché nella nostra mission c'è la promozione del territorio ma dobbiamo fare la promozione vera, quella che funziona perché oggi è inutile dire che c'è un museo in un comune X quando poi magari quel museo è chiuso. Quindi dobbiamo fare questo, è importante quindi che i comuni tramite questi strumenti si mettano insieme e quindi sono felice, io lo dico da sempre, abbiamo amministrazioni lungimiranti perché hanno capito che da soli non si va da nessuna parte e noi come parco dobbiamo aiutare questi percorsi che si sono creati sul territorio, dobbiamo aiutarli, dobbiamo spingere, dobbiamo sponarli e dobbiamo mettere a disposizione ciò che possiamo mettere a disposizione.